Ci troviamo a piazza Nildejotti sui colli di Pescara, una piazza che come vedete è abbandonata all'incuria e al degrado da lontano 1997, anno in cui doveva essere realizzata, appaltata la società immobiliare GMG. Domani finalmente in consiglio comunale approderà la convenzione per la realizzazione di questa piazza ad opera della società privata che riceverà i parcheggi qui sottostanti, ma il centro-sinistra è perplesso. Vogliamo la piazza realizzata in sei mesi, dicono i consiglieri comunali del PD. Oggi l'amarezza grande che per metà poteva essere già riqualificata perché la vecchia amministrazione aveva fatto già, nei fatti, tutte le procedure, messo anche i soldi per poter realizzare un primo lotto di questa piazza. Tolta questa amarezza non ci convince il fatto che gli interlocutori siano gli stessi che avrebbero dovuto fare la piazza nel 1997, che non l'hanno fatta e quindi chiediamo che ci siano ulteriori garanzie a difesa del quartiere che non può avere ancora a lungo una piazza così. Ad esempio la prima garanzia che chiediamo è che nelle opere che farà il privato la piazza sia la primissima cosa che valla fatta. Va fatta entro sei mesi, questo chiediamo, e che la garanzia della manutenzione anche con il privato sarà doppiata, non nei classici dieci anni o cinque dieci anni ma almeno vent'anni. Uno spazio pubblico ricintato, abbandonato all'incuria che i residenti della zona e tanti commercianti non possono più tollerare. Quindi lei risiede in questa piazza da quanto tempo? Da 14 anni, 15 quasi. E da allora lei ha trovato la piazza così e così è rimasta? Sempre così è rimasta. Non è mai cambiata, non ci sono stati mai i provvedimenti di fare piazze e così niente proprio. Le parole servono a ben poco, basta guardarci, diciamo, quello che ho, questo scempio che ho dietro le spalle, che sicuramente non è di decoro né per noi che ci abitiamo, comunque che abbiamo un'attività, noi abbiamo un'attività di parrucchiere. Chiaramente, che dire, vorremmo incitare il nostro comune, il nostro sindaco a cercare di risolvere questa ormai trentennale agonia e scempio che permane in questa Pescaracolli.